bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortnite raga oggi siamo in un tour della mia e quella di refro mappa attenzione sfilata raga però è che ho perso l'effetto molti di voi hanno già visto questa mappa e niente ragazzi un piccolo tour un piccolo dimostrazione di come fare alcune cose scusa dico salutato non vi ho salutato giusto giusto ciò salutato disordonatemi perché per la mia saluta saluta merda ok basta assaggiare allora partiamo con l'esterno l'esterno raga abbiamo fatto parte sinistra della mappa un piccolo laghetto dovrebbe fare il suo bagno e pulire qualche volta si può pulire ogni tanto qui abbiamo fatto refro a mini spiaggia con le anna pesca mini tutto mini per lui che a mini perché esatto e niente ragazzi sui solamente per dare coloro la mappa tutto qua sì ma queste dire ragazze però i molti molluschi sono messi uno per uno sì uno per uno raga dove siamo grazie metto un altro il in live praticamente metto un altro vai vai fa vedere che abbiamo fatto a noi mai no un applauso sto piangendo bravo bravo chi è un piccolo barrettino la televisione per guardarci le partite quando magari abbiamo finito la mappa sfilata di nomine le partite un birre un berrino e niente così vi potete prendere durante la sfilata refro qui fa lo schiavo fa il barrista non non pagato esatto perché è lezzo e quindi quello si sapeva oddio ti bagno vabbè poi poi esci di qua ti metto a sedere con questo super mega tavolone slargato e niente l'estetia raga l'estetia allora per vedere tutte quante le funzionalità di questa mappa però bisogna avviare la mappa se no è che si fa fanno la nostra e quindi lei di arti ma ci mettiti qua per noi ci vorrà circa 30 secondi per voi 0 3 2 1 e 0 visto nulla ecco vedete c'è un punto da dare è fatta da del refro esatto esatto anche la mappa lo sa allora ragazzi mini gioco ve lo faccio vedere dopo a fine mappa che a meno ma vi spiego un po più signore di camere ma il giochino si mi gioca a fine mappa no a fine mappa fine video lo dico come funge iniziamo questo che raga l'entrata ha scritto sfilata da ad e alessio facciamo conto che retro è un partecipante la freccia indica spudoratamente la sinistra e quindi sicuramente non dovrete andare a diritto esatto come come gli altri fanno così sperando che con la forza del pensiero si apra ma in realtà no quindi vai pure a sinistra io intanto per i giudici una cosa più tecnica raga allora per i giudici abbiamo questa scritta qui sulla destra sotto il caso inizio c'è qualcosa piccola per prenderla non è il primo cassoneto o comunque se ci volete provare provateci c'è solamente un sacco della spazzatura che potete picconare invece sotto il secondo cassoneto infatti c'è anche la precettina rossa piccolo indizio c'è per l'appunto queste tre lattine che è una specie di chiave raga che stiamo per aprire per appunto la porta ecco fatto come magia raga che magia attenzione 22 pompa nel caso avessimo due giudici e laggiù cioè il partecipante questo qui raga è la primo piano abbiamo qui che attenzione attenzione la stanza finale solo per il più solo per il più alla moda che non si può aprire quindi vedrete dopo come funge che abbiamo la reception come cazzo dice proprio reception eccola qua si sono 25 euro persone che abbiamo abbiamo le sedie si può dire che spalti non so abbiamo le sede per chi per le persone che magari non vogliono partecipare ma vogliono solamente vedere per le persone passate prendono le scale per quelle non passate in faccia e dovranno aspettare qui le persone passate o altrimenti di solito aspettano qua per vedere anche le sfilate delle altre persone esatto come va i partecipanti dovranno andare dritto di qua e invece i giudici dovranno passare da questa monoscala ragazzi sarà una scala unica che è una specie di scorciatoia per tutti e tre i piani anzi tutte e due piani perché in realtà sono due piani sopra allevati e quindi lei deve dire anche giusto 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 allora allora che abbiamo un raga un segnale di stop perché la fila per i partecipanti deve iniziare da questa linea raga non state qui perché se no è una cosa bruttissima e spropositata quindi da sicuro qua siete dai mi piace e mi piace il voto 10 e lui andrà nella stanza per round finale andranno al round finale raga perché sono ben tre round non di più questo qui raga la scala per i giudici che ovviamente continua vedete continua 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 e va qui ecco il rando finale sempre tutto uguale il tunnel raga uguale rispettare sempre la fila ok mi piace questo quel semifinalista let's go baila ma grazie e qui raga andranno i finalisti se c'è solamente uno il di finalista ha vinto lui per l'appunto se ci sono di più raga o scegliete voi o fate scegliere a una chat se siete live e niente io io lo uccido e raga lui ha vinto quindi passa per la stanza finale cassaforte attenzione e questa qui è la stanza finale del vincitore ma non non quella proprio finale del tutto perché era come potete vedere laggiù il trono spettacolo chi cosa ci sarà cosa ci sarà ovviamente chi segue tanto il canale già lo sa però perché magari è nuovo è molto più che tu spieghi questa vi ragà la postazione di refro faccio spiegare a lui tutto anche se minimale anche perché non può fare di molto vai spiegate il trastanza qua c'è la la freccia che dice la mia e la sua adesso lui dirà la sua la mia io sono seduto qua di solito come vedete ci siamo sprecati non fatto anche la playstation di qua invece la postazione raga era bianco un giorno questo letto è dalla nuova dal nuovo si dalla nuova si sono diventato oro ma ok vai pure allora non aspettate hai vinto dg hai vinto eccetera allora io mi dito perché sono bravo ma giusto anche il suono raga cioè apprezzate dettagli su alla è pieno d'oro eccolo qui oro soldi money cosa finale cosa finale vabbè qui questo è il tuo premio ma credo si sia capito parte finale ma eppure refrozzo ci sei raga la parte finale praticamente vai dentro e vai all'inferno e muori ma a isto dove siamo raga molto molto easy raga bastava collegarli tutto fatto e qui ci dovrebbe essere il vincitore dopodiché raga per vedere chi è che ha vinto fai così dagli armi al partecipante vincitore e lui ti vissa viva la mia mira viva la mira un attimo devo prenderla gari ok posizione finale numero 1 ha vinto refro non c'è una scommessa la mia prima la mia prima sfilata che vedete terminiamo la partita perché vi devo dire il minigioco quindi let's go terminiamo la partita ecco terminata allora ragazzoli il minigioco molto molto semplice in giro per la mappa sono nascoste cinque piccole uova di queste dimensioni qua trovale scrivermi su instagram e riceverai un regalino regalino nel senso di item support e qui c'è il mio instagram oppure raga su telegram link descrizione come troverete in descrizione il canale del refrozzo le zone e si raga praticamente abbiamo un coniglietto due banalite due pesciozzi tutto dovete cercarne la mappa mi raccomando impegnatevi e mandatemi tutte le foto perché dovete stare vicino all'uovo per l'appunto che vedrò per esempio se qui l'uovo dovete stare così mandarmi la foto compreso anche vostro nickname se no porco diaz cavolo ne so io e niente raga tutto qua adesso se volete vi metterò un po di visuali dall'alto della mappa in terza in terza persona e un po di spezzoni e niente ci mettiamo bella bella raga quanti like scegli bella bella stiamo bassi sì 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 per il prossimo video che uscirà decidete voi come volete volete il prossimo video e lo scrivete nei commenti sotto al video direi di fare 25 si va ma è un pezzo a 30 ma 25 è buono e buono a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.